CODEC TV 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 Se c'è un buon inizio, c'è un buon final. Mi chiamo Manuel Di Rita e in arte mi faccio chiamare Pita. In questo momento mi trovo a Bologna, durante la seconda edizione di Frontier, che è un progetto di riqualificazione di spazi pubblici e urbani. L'intenzione è quella di promuovere graffiti e street art attraverso la realizzazione di grossi interventi, progetti su pareti anche molto grandi e visibili al pubblico della città. Sono partito da delle forme organiche molto amorfi, senza una gran struttura geometrica. Avendo conosciuto l'EAD, mi riferisco a Joyce in modo particolare. Mi ha ispirato dal punto di vista della struttura e questo ha cambiato un po', mi ha influenzato leggermente. Mi ha stimolato a migliorare, a rendere le mie forme più studiate per evolvere il mio stile. Quindi ho studiato scultura, le superiori e questo mi ha formato in un modo diverso, perché pensavo che saper scolpire una forma era molto più completa come esperienza rispetto semplicemente alla pittura. Questo ha cambiato il mio modo anche di dipingere. Più o meno, verso il 2000, il mio stile dà più o meno piatto. Comunque, pian piano, ho cominciato a fare un basso rilievo e poi ho cominciato a torcerlo e a renderlo sempre più strutturato in modo geometrico, con volumi, prospettive. Poi anche la scelta di studiare disegno industriale è stata determinante per confrontarmi con un certo tipo di progettualità legata alla funzione. Questo l'ho fatto non perché volessi diventare proprio un designer vero e proprio, ma cercavo degli stimoli anche estetici da applicare poi ai graffiti. Nel corso del tempo questo ha creato anche un po' una professione, perché ha creato dei prodotti poi vendibili, ma per me all'inizio non era la mia intenzione, per me è sempre stato semplicemente ricerca. E continuo su questa strada tuttora applicando i metodi dei designer alla progettazione di sculture, per poi ottenere un prodotto che posso studiare fotograficamente per poi ridipingerlo in situazioni come questa, per esempio. Vedere graffiti in una galleria è sicuramente un compromesso, non è il contesto in cui vedere i graffiti o la street art. Le mie opere vengono esposte in contesti diversi a quell'urbano, ma in realtà quello che io mostro sono i miei esercizi. Il modo in cui io faccio le tele, le ho iniziate a fare, come esercizio personale non volevo diventare un artista all'inizio. Per me era un modo di fare un bozzetto e comunque anche quello, il bozzetto fa parte del processo creativo di un writer. Magari quello può essere mostrato, venduto e quello può avere un mercato. Mentre una galleria non può sostituire assolutamente la strada, in nessun modo bisognerebbe prendere un intero angolo di un quartiere e trasportarlo dentro a una galleria enorme per poter avere la percezione di questo. Però in realtà anche in quel caso non sarebbe comunque la stessa cosa, perché questa cosa avvita e chiude il cerchio solo nel contesto urbano. Per riuscire a riqualificare un ambiente urbano con un pezzo, con le lettere, con i graffiti, bisogna farlo in modo molto delicato, secondo me. Esteticamente il più gradevole possibile, tenendo conto del contesto in cui ha disegnato. Non è che sto creando nessun tipo di messaggio preciso o politico o divertente, ma qualcosa di gradevole da guardare che possa addirittura, sperando, possa essere di ispirazione per qualcuno. La differenza sta secondo me nel modo in cui viene percepita la cosa, perché se faccio un dispetto o scrivo una cosa offensiva o semplicemente lancio una secchiata di colore su una vetrina, magari la cosa può essere interpretata in modo diverso. Però l'artista ha sempre ragione, quindi è vandalismo però è arte, questo è il bello di questa arte, insomma è un crimine artistico e basta. Grazie a tutti!